e siamo su naruto online ragazzi bene si parte già subito così beh ho saltato la parte del personaggio perché tanto ci va a scegliere giusto giusto una classe noi abbiamo scelto quello là sotto che non mi ricordo neanche più qual è vabbè lo scopriremo poi e abbiamo la prima missione che ci obbliga a cliccare sul story let's walk the ninja patch va bene dove va addio dove è andato dove è sopra allora qui mi dice di accettarla accettiamo cosa sono questi oggetti una pietra black iron ah no è un minerale non è solo una pietra ragazzi stiamo molto attenti qui che ci danno l'iron ah era già la mission ci danno già ok quindi adesso dobbiamo accettare un'altra missione vediamo un po' com'è ragazzi questo gioco e abbiamo 5 di quello che ci danno 5 di naruto 5 naruto ci danno non lo so abbiamo aumentato il power a 107 invece che 99 bene ah abbiamo livellato ecco perché siamo livello 2 si livella velocemente noi ci muoviamo col mouse va bene cos'è cosa devo visualizzare cos'è sta roba no non ecco paga via allora equipon equipaggiato ma dov'è che si equipaggiano le cose dov'è vediamo un po' oddio le mie orecchie dove è un tipo un inventario c'è un inventario c'è rachter sarà questo no si e ne abbiamo un altro non è che possiamo mettere un altro adesso no equip ma uno se ne può mettere allora cosa cambia life 44 e è uguale cosa me ne faccio all'altro di un altro abbiamo eh beh usiamolo scusi ci danno il livello 3 va bene dobbiamo ancora fare un livello ragazzi quindi facciamo fare lui e vediamo un po' dove ci porta la storia dobbiamo registrarci come ninja ragazzi quanti caricamenti siamo seduti perché c'è Naruto deve registrare mio non lui schifo si schifo perché tanto è in inglese io so dobbiamo parlare con lui no mission complete 5 Naruto ma cos'è oh mio dio cos'è sta roba non ci facciamo domani non la prendiamo vai tanto cos'è sta roba ecco abbiamo livellato ci è andato alla fascia va bene quindi quindi adesso ce la fa mettere ok abbiamo da reclutare reclutiamo Naruto vai vai eh addirittura confermo si confermo team allora abbiamo eh devo trascinare Naruto qui sono più forte no almeno un action non lo so allora accettiamo la nostra missione che ci danno gli shoe no cosa come i dart e una maglietta vai fermi perché noi ci hanno dato altra roba no dovevamo aprire anche questo quindi vediamo un po' eh quanta roba che non so cosa serva abbiamo della carne che penso che ci ricupri vita usa usa tu upgrade ninja ninja infer 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 facce interfaccia io non so più leggere se la uso mi danno tutto con l'exp cos'è li vediamo facile no non la voglio vendere penso che le nostre skill sono queste ci sto cercando di capire perché abbiamo fatto Naruto quante skill quante ed è bloccato qua vabbè comunque ragazzi direi che cos'è abbiamo il coso del giorno no cosa ho fatto per tua roba brutta non non pago vai via non c'era gratis vabbè queste cose che brillano ho paura che siano tutte cose che devi pagare bless per uno bless per dieci clicco qui e mi apre il coso ah no ci abbiamo fatto questo era gratuito va bene beh direi ma in client proviamo ad andare avanti con le missioni ragazzi vado abbiamo primo mission di combattimento abbiamo primo combattimento o no va bene schippa tutto noi proseguiamo carica vedo dei soldi basta caricare cos'è si combatte bene start è start non ci voglio aspettare eh 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 quante quante non è fuori sono più forti eh cos'è successo cominciano anche a comparire roba e noi andiamo a prenderle ho preso un cesta che non so come si apra soldi diventiamo ricchi così noi quelli sono persone non capisco se sono da combattere oppure no noi proseguiamo sono tutti da combattere che bello che bello schippa schippa schippiamo tutto qui che dobbiamo livellare diventare forti start e il nostro personaggio farà la sua di tazzo Naruto finiscilo bravissima ecco vai in giù magari fa tutto da soli e io cosa sento ecco picchiatevi Naruto che così almeno a me non subisco niente vai mi piacerebbe un attacco è sdoppiato siamo in tre anche noi adesso e quindi eh dai attacchiatevi due Naruto e lo finiamo noi giusto bene è tutto combattimento qua sono nel mondo aperto che lea si abbiamo pulito si quanta roba ah tipo era una mappa questa dove potevamo combattere ci sono andato sempre in black iron è un boon un buongiorno siamo tornati qui con il ghetto che scelta abbiamo fatto un livello 4 finalmente vai così quindi adesso cosa si può fare andiamo a completare la missione ho finito dammi vestiti e armi e accetto un altro vestito mi vogliono aumentare equipaggiamo va bene accetto anche l'altra missione però io ho messo il vestito ma non cambia l'estetica mi sa di no eh proseguiamo con le missioni noi arrivederci poi lì c'è altra gente ah così abbiamo finito va bene però equipaggiamo anche la si è livello 5 e abbiamo ricevuto fissa anche un pacchetto più figo cosa posso fare dai fammi vedere sto pacchetto accetto che cosa sta succedendo cos'ho accetto equipaggiamo non posso devo facerla ho combattuto cos'è che qui non posso non mi fa far niente cos'è sta roba mi dice qui cos'è qui posso trascinarla qui ragazzi non sto capendo cos'è sta roba dai ma poi non capisco cosa c'è qui lì non c'è niente no comunque abbiamo vinto non so contro chi chi era col chi non mi fa andare avanti cos'è da adesso abbiamo un problemino tecnico e quindi dai cos'è cos'è sta striscia vuota non c'è niente lì mi sa che ci tocca riavviare ho questo presentimento e si dovremmo avercela fatta bene e vai allora possiamo attivare sto coso claimiamo soldi i dango i ramen e un trumpete che dovrebbe essere il megafono per poter scrivere vedono tutti tutti qui abbiamo quello di giornaliero no attive now cos'ho attivato eh attiviamolo vai non ho non ho non ho non lascia stare vai non facciamo casino allora abbiamo visto abbiamo ricevuto un po' di roba dovevamo equipaggiare l'anello che dove va equipment cosa ci dava non ho guardato resistenza più 19 e sto coso qua che è segnato a tempo cosa sei non lo voglio vendere experience allora se ne va tra quattro ore si quasi cinque cinque facciamo usa terreno no no voglio vendere i dango cos'è sempre la stessa cosa dell'exp ah no qui danno soldi usa tu refresher your mode va bene ma naruto si può occupaggiare un po' di roba dovremmo ah beh allora mettiamogli la naruto no mettiamo mia magliazzina a naruto così non prende freddo questo eh no aspetta facciamo un primo più forte del nostro si può mettiamo mettilo boom quasi tutto tranne questo che c'è il lucchetto eh eh siamo già power allora abbiamo già due missioni cos'è una di tre e l'altra è nuova iruka iruka ci da sasuke va bene accettiamo stiamo in scuola skipiamo tutti i personaggi ci sono con canzoni cattivi startiamo e sempre con i due speciali speciali quando sono pronti tipo adesso adesso si moltiplicano quanti ne possiamo fare quanti abbiamo un esercito siamo immortali adesso dai intanto mi uccidi i cloni non succede niente però potevano essere un po' più forti sti cloni eh no ragazzi vinto io ancora adesso contro le tizie va bene chi inizia iniziano loro cos'è sei formata una scacchiera che sta succedendo clicca tu cosa devo cliccare vai uccidi eh l'abbiamo quasi shottata eh siamo power adesso contro la IQ era vero vai moltiplicatevi erano così deboli va bene sensei se vuole ho vinto non mi rompete ecco abbiamo guadagnato niente perchè non c'erano ah beh abbiamo preso comunque un baule blu bronze bronzo blu va bene infatti dammi il mio boon i soldi eh sì va bene vado sì recruit recrutiamo anche shashuke confirm ci siamo tutti i personali va bene team andiamo a mettere anche lui qui di fianco ok mi sta dicendo come funzionano quei mangiare eh l'abbiamo già fatto arrivare livello 6 mi sembra giusto se no era il più debole del gruppo allora shenshei qui umino mi dia roba che adesso qui dobbiamo equipaggiare anche a naruto un po' di roba no ragazzi quindi andiamo a prendere la missione vai già completa abbiamo preso già roba quindi poi c'è un altro che ci danno altro equipaggiamento vai 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 e no perché ma dai ci danno roba va bene accetta missione e lui cosa vuole schippa non mi interessa allora fermi andiamo ad equip dove sono finito l'equipaggiamento gli era messo già tutto a naruto va automatico va bene qui abbiamo costruito sette giorni cos'è clamiamo roba noi prendiamo tutto e andiamo avanti con la missione si terzo posto allora prendiamo subito questo che ci interessa che ci sarebbe potrebbe essere solo ben interessante no ragazzi e andiamo contro sti lupi un lupo a volta due dai un black lupo come si chiameranno non ho visto i nomi vai io volevo che ti sdoppiassi però vabbè che volo gli ha fatto fare vabbè poi che è sta roba oh uccidiamo questi quanti soldi c'erano vai vi uccido subito a tutti vai naruto si sdoppi che ci serve protection infatti non fa molto danno penso che abbia un po' più di resistenza dovrei andare a vedere un po' più le sue statistiche qui qui allora poi ci ho visto la palla di fuoco va così vediamo se prende una o ne prende di più la palla di fuoco almeno fire style va bene abbiamo vinto anche questa volta che ne ha fatti due sto giro soldi vai ne mettiamo ricchi comprare tutto poi non so cosa si può comprare con la valuta normale del gioco però vabbè abbiamo un lupo cos'è il bosch cos'è cos'è medio un bosch con due add vai così vai naruto ci sdoppi devo ben capire quando quando e come si possono usare le skill posso usare anche la tastiera vedo così il mouse non lo tengo lontano e me ne sbatto dai 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 così vediamo allora il lupo bianco è andato rimasti tu quelli piccoli vai con il mio attacco va facciamo qualcosa anche noi vai colpisca boom fatto bene dai ragazzi sta andando abbastanza bene devo dire tra adesso niente di difficile oh vediamo i due bovoletti che abbiamo trovato una pozione usa to recover che è la vita e abbiamo trovato il bronze blu bronze e bronze mi pare giusto no c'era ancora altra parte voglio andare a vedere vabbè livello 7 solo io no anche sasuke e naruto beh almeno vanno di peripasso cosa sei tu roba va bene vado a vedere cosa voglio i talenti abbiamo sbloccato un nuovo talento in uso va bene con quanti posso scegliere tra questi però mi ispiravo un po' più questo va bene no teniamo il primo massimo li proviamo più avanti allora abbiamo messo il talento dobbiamo andare a completarla dobbiamo tornare andrei ah poi c'è la mappa aperta posso andare dove c'ho voglia ah no forse adesso siamo finalmente in una zona libera tutta la città della foglia credo chissà quella no con la neve che non capisco perché ma vabbè salve okage mi dia la roba mission completa adesso mi dirà vuoi equipaggiarla già vuoi equipaggiarla già vuoi equipaggio direttamente a sasuke no non me lo chiede allora vado io direttamente l'equipaggi le cose bravissimo ah lui mi manca ancora forse anche a naruto no lui l'anello ce l'ha la noi manca il rotolo di carta igienica noi aumentiamo sempre il power che non so bene cosa serve abbiamo un botto di vita rispetto a quella che dobbiamo avere e non chiedetemi e non chiedetemi il perché quante missioni seconda cos'è tutta sta roba vabbè andiamo a fare l'ultima missione ragazzi poi vediamo quando e come se riusciò a fare altri video vediamo un po' comunque è un gioco abbastanza simpatico sì che si può fare non richiede chissà che cosa un po' giusto giusto anche volendo se non si sa l'inglese come vedete non lo sto leggendo ma stiamo riuscendo a andare avanti e poi non so se più avanti richiede qualcosa in particolare ma c'è anche l'autorun per andare sulle missioni quindi fa tutto già il gioco dobbiamo battere lui vai siamo in un po' 4 contro 1 poi il nostro è fortissimo guarda già più della metà l'abbiamo tolto bene 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 sta mangiando questo è sicura dobbiamo mangiare le patettine che fanno male che combo ragazzi che combo e due è già pronto con la palla di fuoco tutto qui aspetta e fermi non posso andare meno in giro no ci sono dei soldi ma se li affrontiamo ci siamo no 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 volevo prendere i soldi danazione schifo start vai ah mi sa che questa cosa qua deve riempirsi per poter usare la stabilità quanto lo stanno massacrando eh doppio ne può colpire due che bene mi fa piacere questa cosa e vai voglio finire io no vabbè niente ho visto ho notato che c'era anche il tasto per ritirarsi ce ne sono altri fatemi prendere i soldi poi fate quello che volete fammi vedere non mi hanno visto c'è roba nascosta no niente allora andiamo ad affrontarli tutti e tre sono qui eh si schifo schifo tanto dite solo cavolate andiamo subito con l'attacco vediamo se riusciamo a evitare di fare la moltiplicazione se cambia qualcosa uno l'abbiamo già ucciso quindi direi che forse conviene non stare a fare la moltiplicazione perché tanto come ci controlla vai col fuoco allora ah tipo ci attacca a noi Naruto molto inutile e dai Naruto moltiplica di vacche qui la situazione non è critica però gli hanno fatto noi un critico altro che bene così ragazzi e adesso si parla e noi non ce ne frega due baoletti abbiamo quanti non ho mai guardato più 700 buona trovate sempre la pozione del ramen vai così ho livellato gli altri no ma perché forse devono ancora livellare adesso li verrà dato l'exp livello 8 ah infatti mi sembrava strano che non avevano livellato anche loro increase your power aumentano il mio power adesso vabbè forse abbiamo sbloccato roba cos'è cosa ho fatto perché penso che intendano per potenziare gli item che si hanno addosso infatti c'hanno di livello 1 e li vedremo poi comunque ragazzi direi che anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video abbiamo fatto un po' abbiamo visto anche un po' come questo gioco to naruto online ma si non è male sembra più sì quei giochini per telefonino quelli che c'erano una volta su facebook che comunque non sono da buttare via perché è un passatempo e vedrò se riuscirò come oggetto in altri video di farci altri video sopra di questo andiamo un po' di andare avanti di vedere un po' le missioni di potenziarci se riusciamo a sbloccare anche altri personaggi e niente ragazzi quindi se questo video vi è piaciuto e volete aiutarci a crescere potete iscrivervi al canale condividere questo video lasciate un bel like e un commento qua sotto e potete venire a trovarci i nostri social network che sono facebook e instagram e potete venire a parlare a scrivere a fare quello che più vi piace nel nostro server di discord che anche quello lo trovate sempre qua sotto in descrizione e che dire da Dark è tutto e ad un prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti